impataccato di alberto moravia tratto dai racconti romani era venerdì 17 ma non ci feci caso appena vestito presi le 50.000 lire che dovevo a ottavio tutto in biglietti da 5 le cacciai nella tasca dei pantaloni e usci di casa le 50.000 lire erano la parte di ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme e io ero già in ritardo di una settimana aspettando la circolare mi venne la stizza al pensiero di dovere dargli quei soldi che avrebbero invece fatto comodo a me lui non aveva rischiato nulla si era limitato a fornirmi la merce da quel bravo orafo che era io invece avevo fatto tutta la fatica esponendomi per giunta al pericolo della galera fossi stato preso in castagna non avrei certo fatto il suo nome e sarei andato in prigione mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro alla vetrina una lente incastrata nell'occhio questo pensiero mi avvelenava e salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente ma voleva dire non potere più ricorrere a lui e alla sua bravura voleva dire cercarmi un altro ottavio e forse peggiore di questo e poi per un uomo di coscienza come me voleva anche dire mancare di parola sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia e tuttavia quei denari proprio mi dispiaceva darglieli tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo li accarezzavo erano sempre 50.000 lire e quando gliele avessi date avrei fatto il mio dovere ma avrei avuto 50.000 lire di meno mentre così mi rodevo mi sentì urtare al gomito attiglio e non mi riconosci era cesare un disperato numero uno che avevo conosciuto nel dopoguerra ai tempi della borsa nera delle sigarette doveva essere rimasto come si dice al carissimo amico ossia al punto di partenza più disperato che mai aveva un pastrano scolorito e rattoppato abbottonato fino al mento ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo senza cravatta né colletto a testa scoperta coi capelli arruffati che mi parvero pieni di lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche dico la verità faceva paura risposi imbarazzato cesare che fai disse scendiamo un momento dovrei parlarti non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo altavio gli feci cenno che stava bene e mi avviai verso l'uscita il tram si fermò e noi scendemmo eravamo alla stazione davanti ai giardinetti dalla parte di via volturno cesare mi portò in un punto solitario qui si fermò e biascicò avresti mille mille che cosa mille lire sono due giorni che non mangio risposi bravo caschi proprio bene stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere mille lire lui capì subito e disse mogio beh allora se non vuoi prestarmele almeno aiutami gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse e lui guarda un po qui abbassai gli occhi e vedi che teneva nella palma della mano una moneta durata con qualche incrostazione terrosa e una figura di donna nel mezzo e aiutami aiutami a vendere questa moneta romana e poi faremo a mezzo lo guardai e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata non sapevo neppure io perché pataccaro sei finito pataccaro pataccaro più ripetevo pataccaro e più ridevo e lui intanto mi guardava più brutto che mai con la moneta in mano disse finalmente beh si può sapere perché ridi risi ancora un bel po e poi risposi oh non se ne parla neppure ma perché perché caro mio anche i bambini ormai conoscono le patacche è passato il tempo delle patacche mortificato si rimise la moneta in tasca dicendo beh allora almeno prestami 200 lire in quel momento mi ricordai di nuovo di ottavio e del denaro che dovevo dargli e mi tornò la speranza di rifarmi dopo tutto ogni giorno si può dire si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca perché non dovevamo riuscirci proprio noi e dissi a cesare guarda mi fai pena voglio aiutarti ma a un patto caso mai ti acchiappano tu non mi conosci sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane c'ho anche i soldi guarda forse per vanità cavai di tasca il pacchetto di biglietti e glielo sfogliasi otto il naso c'ho i soldi e tu in tutti i casi sei un truffatore e io colui che avrebbe potuto essere truffato intesi lui disse subito con entusiasmo intesi proseguì ormai sicuro di me vediamo intanto di metterci d'accordo che prezzo vogliamo fissare 30 mila 30 mila sono poche 60 mila almeno di queste 40 mila le prendo io e 20 tu va bene veramente avevamo detto la metà allora non se ne fa nulla 20 mila va bene vediamo adesso come la presentiamo continuai tu sei un manovale lavoravi qui nello sterro della stazione nuova hai trovato la moneta e l'hai nascosta siamo intesi intesi e quanto alla moneta io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore bisogna trovare però il nome di un imperatore romano chi diciamo nerone no nerone no lo vedi come sei ignorante nerone a roma e chi non lo conosce è il primo che viene in mente no un altro cesare perplesso si grattò il mento e poi disse io non conosco che nerone gli altri non li conosco e invece dissi sono stati tanti almeno un centinaio vespasiano per esempio quello dei vespasiani non lo conosci ah sì vespasiano ma vespasiano non va bene potrebbe far ridere vediamo piuttosto che è scritto sulla tua moneta dammela un po lui me la diede e io guardai c'erano delle lettere ma confuse e non si capiva nulla e dissi con improvvisa ispirazione caracalla quello delle terme hai capito caracalla oh sì sì caracalla ecco allora conclusi noi facciamo così ci separiamo pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro il tipo lo cerco io quando mi senti tossire vuol dire che è lui e la bordi va bene o non dubitare e così ci separammo cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti e io mi misi in osservazione sul marciapiede in quel luogo come sapevo capitavano venendo dalla stazione tutti i provinciali dei dintorni di roma gente rustica ignorante ma con il portafoglio gonfio di biglietti gente che crede di essere furba e non dico che al paesello tra le pecore le casciotte non lo sia ma a roma la loro furbizia è ingenuità ne vidi parecchi quali coi fagotti e con le valigie e quali soli e quali con le donne ma per un motivo per l'altro non andavano mai bene intanto per ingannare l'attesa e darmi un contegno tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi non so perché alla prima boccata il fumo mi andò di traverso e tossì e subito quell'imbecille di cesare filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito e la scena era stata così rapida che non feci in tempo a intervenire mentre cesare parlava esaminai il giovanotto era di piccola statura vestito da campagnolo con la giacca a vento dal bavero di volpe i pantaloni di velluto marrone alla zuava gli stivali di vacchetta gialla infangati aveva il viso bianco schiacciato a guzzo baffetti biondi sotto il naso pizzuto testa rapata pareva furbo ma per fortuna pareva anche rustico ascoltava cesare con curiosità e forse con interesse e finalmente cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta ormai era giunto il mio momento e capì che non potevo più tirarmi indietro il giovanotto guardava la moneta reggirandola cesare gli parlava mi avvicinai e dissi con tono autorevole scusate l'indiscrezione ma quella non è forse una moneta romana cesare mi guardò inebetito il giovanotto disse a fior di labbra pare dissi permettete che la guardi me ne intendo sono antiquario permettete il giovanotto mi porse la moneta e io la esaminai a lungo fingendo curiosità e poi mi voltai verso cesare e gli domandai severo ma tu come l'hai avuta bisogna dire che cesare così stracciato e sporco era intonato alla sua parte e piagnucolò che volete che vi dica sono un poveretto via dissi non aver paura mica sono un questurino in borghese con me puoi parlare come l'hai avuta beh sono un manovale rispose cesare sempre in tono lamentoso l'ho trovata mentre lavoravo allo sterro qui della stazione forse voi potete dirmi quanto vale valere vale di certo è una moneta dell'imperatore caracalla ecco bravo caracalla disse cesare qualcuno mi aveva fatto questo nome è raggiunto il momento delicato decisivo brusco domandai quanto quanto che cosa quanto vuoi e datemi sessantamila lire era la cifra combinata ma uno meno stupido di cesare avrebbe preparato il colpo magari rispondendo fate un po voi dissi tuttavia sempre in tono brusco come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione guardate ne do 50.000 va bene guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire chi aveva boccato e infatti propose e io te ne do 10 di più vuoi darmela in tono dolce persuasivo insinuante cesare levò gli occhi verso di me e poi disse con giusta intonazione mortificata e lo vedete c'era prima lui mi dispiace devo darla a lui il giovanotto si mordeva i baffi biondi guardandoci riprese e però i soldi qui io non ce li ho quindi vieni con me che te li do a e dove in questura cesare sbarrò gli occhi spaventato tramortito capì che dovevo intervenire con la massima decisione e facendomi di mezzo un momento e con che diritto chi siete siete un agente non sono un agente no rispose quello beffardo ma non sono neppure così scemo come voi due credete volevate rifilarmi la patacca venite con me in questura e lì ci spiegheremo meglio cesare mi guardava disperato ebbi un'ispirazione e dissi ma voi vi sbagliate può darsi che all'asparenza lui sembri un truffatore e io il compare vuoi il merlo ma in realtà non lo conosco e voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario e la moneta è buona tanto è vero che la compro subito mi voltai verso cesare gli comandai da qua la moneta e para la mano lui ubbidì e io una sull'altra gli contai in mano le 50.000 lire di ottavio e poi dissi al giovanotto questo per regola vostra imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori imparate a fare le differenze ma quello rispose ostinato e chi mi dice che non siete d'accordo ora che l'avevo pagata sul serio la patacca mi sentivo aggressivo l'odiavo e dissi alzando le spalle d'accordo noi e si vede che vieni dalla campagna e di mozzarella te ne intenderai ma di gente onesta proprio no ma torna al paese torna oh fece lui arrogante e con chi credi di parlare non alzar la voce e bullo e bullo sei tu e anche becca morto ero inferocito senza motivo forse perché ormai sentivo di aver ragione e lui rispose ma scalzone io mi avventai contro di lui facendo il gesto di afferrarlo per il bavero di volpe intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero mentre io mi dibattevo e gridavo ma vai a vendere le caciotte cafone ignorante contadino e lui alzando le spalle si allontanò tra la folla e io allora mi voltai per cercare cesare mi sigelò il sangue vedendo che non c'era la gente dopo averci divisi se ne andava per i fatti suoi e cesare non si vedeva né sul piazzale della stazione né per i giardinetti né dalla parte di piazza dell'esedra era scomparso e con lui le 50.000 lire ebbe un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò ma si sente male basta tutto tremante per la rabbia sudato trafelato sconvolto feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via vicenza dove stava il negozio di ottavio lo trovai al solito dietro la vetrina grasso trascurato la barba lunga che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo entrai ricomponendomi alla meglio gli dissi guarda ottavio che i soldi non posso darteli se vuoi puoi prendere in cambio questa moneta romana lui la prese con calma senza guardarmi se l'avvicinò all'occhio l'esaminò un momento solo e poi incominciò a ridere a ridere come per conto suo e quindi si alzò e sempre ridendo battendomi la mano sulla spalla disse pataccaro pataccaro sei finito pataccaro